La commissione d'inchiesta fresca di nomina prefettizia è già al lavoro e relazionerà a fine estate per fornire elementi tali da portare il rappresentante del governo sul territorio, Nicola Prete, a decidere se proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cellino San Marco per infiltrazioni mafiose. E nel comune del Brindisino c'è preoccupazione e una condivisa esigenza di chiarezza. Lo aveva in qualche modo sollecitato lo stesso primo cittadino Francesco Cascione, questo faro della commissione presieduta dal vice prefetto Maria Filomena D'Abico. Lo aveva fatto dopo essere stato bersaglio di un atto intimidatorio in aprile l'incendio della Villa al Mare di Torre San Gennaro, solo l'ultimo di una serie di attentati e richieste estorsivi ai danni suoi e della famiglia. Sia il padre che la madre lo hanno preceduto al governo del comune e avvertimenti sono arrivati anche agli assessori Gabriele Lie e Marina del Foro. Questa commissione chiarirà il tutto, sono assolutamente tranquilli. In provincia di Brindisi c'è solo un precedente, risale a 11 anni fa a San Pietro Vernotico e in altri casi di fondato sospetto di condizionamento criminale dell'azione politica non si è ritenuto di procedere. Per questo sorprende l'iniziativa del prefetto, presa evidentemente però sulla scorta di risultanze investigative. Non ci sono stati appalti gestiti da società collegate a contesti malavitosi, né subappalti né affidi diretti. Forse qualche contributo a soggetto indigente purtroppo per lui pregiudicato, perché questo è il contesto che io vivo. Soggetti che hanno bisogno di bollette pagate, di affitti che vengono con un'ISA inferiore a 7500 euro, io sono tenuto per legge a pagare questo contributo. Le opposizioni e le associazioni attive sul territorio vorrebbero un confronto aperto con la cittadinanza, un consiglio comunale monotematico in piazza. Ho necessità di capire. Per quanto riguarda il consiglio comunale all'opposizione chiedo, dico che non è ancora il momento, ma darò loro soddisfazione.